Errori di Mosè di Robert Greene Ingersoll Capitolo 13 Facciamo l'uomo Noi siamo poi informati dall'autore del Pentateuco che Dio disse «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza» e che Dio creò l'uomo nella sua immagine. «Nella immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò». Se questo racconto significa qualcosa, significa che l'uomo fu creato nella fisica immagine e aspetto di Dio. Mosè, mentre parla dell'uomo come di essere stato fatto nell'immagine di Dio, non parla mai di Dio come dotato di forma umana. Lui parla di Dio mentre cammina nel giardino nel fresco del giorno e che Adamo ed Eva sentirono la sua voce. Egli ci dice costantemente che cosa Dio disse e in mille passaggi si riferisce a lui non solo come dotato di forma umana, ma facente azioni alla maniera in cui le fa un uomo. Il Dio di Mosè è un Dio con mani, piedi, organi per parlare, un Dio di passione, odio, vendetta, affetto e pentimento. Un Dio che ha commesso errori. In altre parole, un immenso e potente uomo. Non basterà dire che Mosè intendesse trasmettere l'idea che Dio ha fatto l'uomo nella sua immagine morale o mentale. Alcuni hanno insistito che l'uomo fu fatto nell'immagine morale di Dio perché fu fatto puro. La purezza non può essere manufatta. Un carattere morale non può essere fatto per l'uomo da un Dio. Ogni uomo deve costruire il suo carattere morale. Conseguentemente, se Dio è infinitamente puro, Adamo ed Eva non furono fatti nella sua immagine sotto questo aspetto. Altri dicono che Adamo ed Eva erano la sua immagine mentale. Se è inteso che essi furono creati con una capacità di ragionamento simile ma non alla stessa portata di quello di Dio, allora questo potrebbe essere ammesso. Ma certamente questa idea non era nella mente di Mosè. Egli guardava la forma umana come essere nell'immagine di Dio e per quella ragione parlò sempre di Dio come avente tal forma. Nessuno può leggere il Pentateuco senza arrivare alla conclusione che l'autore supponeva che l'uomo fu creato nella soviglianza fisica della divinità. Dio disse andiamo, scendiamo. Dio annusò una dolce fragranza. Dio poi si pentì di aver fatto l'uomo. E Dio disse e camminò e parlò e si riposò. Tutte queste espressioni sono inconsistenti con una qualunque altra idea che la persona che le usava guardava a Dio come avente forma umana. È un dato di fatto che sia impossibile per un uomo concepire un Dio personale se non avente la forma umana. Nessuno può pensare di un essere infinito avente forma di cavallo o di uccello o di qualsiasi animale che non l'uomo. È una di quelle necessità della mente di associare le forme e capacità intellettuali. La più alta forma di cui abbiamo concetto è quella umana e, conseguentemente, la sua è la sola forma che possiamo trovare nell'immaginazione per darla a un Dio personale. Poiché tutte le altre forme sono, nella nostra mente, connesse a minori intelligenze. È impossibile pensare a un Dio come a uno spirito informe. Possiamo usare queste parole, ma non trasmettano alla mente un reale e tangibile significato. Ognuno che pensi a un Dio personale pensa a lui come un forma umana. Prendi da Dio l'idea della forma, parla di lui semplicemente come di uno spirito onnipresente che significa che pervade qualsiasi cosa di cui non conosciamo nulla, e il risultato è il panteismo. Ci viene detto che Dio fece l'uomo. E la domanda naturalmente sorge. Come lo ha fatto? Lo fece con un processo di evoluzione? Di sviluppo? Di trasmissione dei tratti acquisiti? La sopravvivenza del più adatto? O fu necessario un ammontare di argilla impastata alla giusta consistenza e poi dalle mani di Dio plasmata nella sua forma? La scienza moderna dice che si è evoluto, attraverso innumerevoli epoche, da forme inferiori. Che è il risultato di un numero quasi infinito di azioni, reazioni, esperienze, stati, forme, desideri e adattamenti? Mosè intendeva trasmettere tale significato? Intendeva che Dio prese un sufficiente quantitativo di polvere, l'ha fatta nella forma appropriata e ci ha soffiato dentro un alito di vita? Fu un credente nella Bibbia dare una spiegazione ragionevole del processo della creazione? E' possibile immaginare come è stata fatta davvero? C'è un teologo che asserisca che l'uomo fu creato direttamente dal terreno? Ci dirà egli che l'uomo fu fatto sostanzialmente come oggi con i suoi muscoli propriamente sviluppati per camminare e parlare e fare ogni varietà d'umana nazione? Che tutte le sue ossa furono formate così come sono e tutte le relazioni di nervi, legamenti, cervello e movimenti che ha adesso? Guardando indietro nella storia della vita animale, dalle più basse alle più alte forme, noi troviamo che c'è stato un lento e graduale sviluppo. Una certa ma costante relazione tra scopo e risultato, tra uso e forma. Il monero è detto essere la più semplice forma di vita animale mai trovata. Esso è descritto come un organismo senza organi. È una specie di struttura non strutturata, una piccola massa di gelatina trasparente che può appiattirsi, può espandersi e contrarsi attorno al suo cibo. Può nutrirsi senza una bocca, digerire senza uno stomaco, camminare senza piede e riprodursi per semplice divisione. Prendendo questo monero come inizio della vita animale o come primo animale, è piuttosto facile seguire lo sviluppo della struttura organica attraverso tutte le forme della vita fino all'uomo stesso. In questa maniera ogni muscolo, osso e giuntura, ogni organo, forma e funzione vengono spiegati. In questa maniera e solo in questa, l'esistenza di organi rudimentali può essere spiegata. Levate dalla mente umana le idee di evoluzione, eredità, adattamento, la sovravvivenza del più adatto con cui è stata arricchita dalla Mark, Gaet, Darwin, Haeckel, Spencer e da tutti i fatti della storia della vita animale, diventano scollegati e insensati. Dovremmo noi gettar via tutto ciò che è stato scoperto riguardo alla vita organica e al suo posto prendere le affermazioni di chi è vissuto nella rude mattina di un giorno barbaro? Dire a qualcuno, ora, che l'uomo fu una creazione diretta e indipendente e non ha relazioni con gli animali sotto di lui? Le opinioni su questa materia devono essere infine governate dall'evidenza. L'uomo non può credere quel che gli pare, può controllare il suo dire e dichiarare che cosa crede o non crede, ma tutto il suo valere non può abbassare o alzare i piatti della bilancia con cui la ragione scopre l'importanza e il peso dei fatti. Se così non fosse investigazione, evidenza, giudizio e ragione, non sarebbero che parole vuote. Chiedo di nuovo, come vennero creati Adamo ed Eva? In un racconto essi sono creati maschio e femmina e apparentemente allo stesso momento. In quello successivo, Adamo per prima ed Eva un lungo tempo dopo da una parte dell'uomo. Dio ha semplicemente, e per il suo atto creativo, fatto sì che una costola lentamente si estandesse, crescesse e si dividesse in nervi, legamenti, cartilagine e carne? Come è stata creata una donna da una costola? Come è stato creato un uomo semplicemente dalla polvere? Per parte mia io non posso credere a questa affermazione. Potrò soffrire per questo nel prossimo mondo e potrei fra milioni di anni sinceramente desiderare che io non avessi mai investigato questa materia, ma mi fossi invece accontentato di prendere le idee dei morti. Io non credo che una qualsiasi divinità operi in tal maniera. Fin dove la mia esperienza giunge c'è un'interrotta processione di cause ed effetti, ed ogni cosa è un anello necessario di una catena infinita. E non posso concepire per questa catena di essere rotta anche solo per un istante. Dietro il più semplice monere c'è una causa e dietro quest'altra un'altra e così via, mi sembra per sempre. Nella mia filosofia io non postulo né un inizio né una fine. Se il racconto mosaico è vero, allora sappiamo quanto tempo l'uomo è stato sulla terra. Se quel racconto è fidabile, il primo uomo fu fatto 5883 anni fa. 1650 anni la creazione del primo uomo, gli abitanti della terra, con l'eccezione di otto persone, furono distrutte da una inondazione. Questa inondazione è avvenuta solo 4227 anni. Se questo racconto è corretto, al tempo solo una specie di uomini esisteva. Noè e la sua famiglia erano certamente dello stesso sangue, quindi ne segue che tutte le differenze che vediamo tra le varie razze di uomini sono state causate in circa 4000 anni. Se il racconto del diluvio è vero, allora da quello evento tutti i regni antichi della terra sono stati fondati. Tutti i loro abitanti sono passati tra gli stadi di selvaggi, nomadi barbarici e alla vita semi-civilizzata. Attraverso le epoche di pietra, bronzo e ferro hanno stabilito il commercio, coltivato le arti, costruito città e le hanno riempite di palazzi e templi. Hanno inventato la scrittura, prodotto la letteratura e lentamente sono finiti in rovine, in formi. Noi dobbiamo credere che tutto ciò sia avvenuto in un periodo di 4000 anni. Dalle rappresentazioni trovate sui graniti egiziani fatte più di 3000 anni fa, noi sappiamo che il negro era tanto nero, le sue labbra tanto piene, i suoi capelli tanto ricci allora quanto oggi. Se sappiamo qualcosa, sappiamo che a quel tempo c'era sostanzialmente la stessa differenza tra l'egizio e il negro che oggi. Se sappiamo qualcosa, sappiamo che magnificenti statue erano fatte in Egitto 4000 anni prima della nostra epoca, vale a dire circa 6000 anni fa. C'era nell'esposizione mondiale del dipartimento egiziano una statua di re Cefren che sappiamo essere stata scolpita più di 6000 anni fa. In altre parole, se il racconto mosaico deve essere creduto, quella statua fu fatta prima del mondo. Noi sappiamo anche, se sappiamo qualcosa, che l'uomo è vissuto in Europa con il peloso mammut, l'orso delle caverne, il rinoceronte e la iena. Tra le ossa di questi animali abbiamo trovato le asce e le frecce di pietra dei nostri antenati. Nelle caverne dove vissero abbiamo scoperto i resti di questi animali che sono stati conquistati, uccisi, divorati come cibo centinaia di migliaia di anni fa. Se questi fatti sono veri, mo sei in errore. Per parte mia, io ho infinitamente più fiducia nelle scoperte odierne che negli scritti di un popolo barbaro. Non sarà possibile a questo punto dire che l'uomo ha esistito sulla Terra solo per 6000 anni. Si può difficilmente immaginare il tempo necessario all'uomo per emergere dallo stato barbaro nudo e incapace, circondato da animali più forti di lui, al progresso e finalmente a creare le civilizzazioni dell'India, d'Egitto e Atene. La distanza dallo stato selvatico a Shakespeare deve essere misurata non in centinaia ma in milioni di anni. Grazie dell'attenzione. Se ti interessa questo tipo di video, metti mi piace e condividi, te ne sarò molto grato. Se non vuoi perderti qualcosa, iscriviti al canale e clicca la campanella, così YouTube ti avviserà quando c'è un nuovo video. A presto!